salve a tutti e bentornati a flash news l'appuntamento quotidiano con informazione sui canali social di per sempre news iniziamo con il conflitto tra israele e damas è stato riaperto il valico di rafa nella giornata di oggi per permettere a 400 persone con la doppia cittadinanza di uscire da gaza lo ha reso noto wailabo mossen portavoce della parte palestinese del terminal secondo il quale 100 sarebbero già passate intanto in germania la ministra federale dell'interno tedesca nancy fesser ha vietato le attività dell'organizzazione terroristica amas e della rete internazionale semidun palestinian solidarity network in germania lo annuncia il sito del di castero l'intenzione di mettere al bando amas era stata preannunciata da berlino già il 12 ottobre semidun è l'ONG che aveva suscitato sdegno distribuendo dolcetti per strada a berlino nel pomeriggio del giorno dell'attacco di amas a israele il ministro della sanità della striscia di gaza gestito da amas ha dichiarato che il bilancio delle vittime ha superato i 9.000 morti il ministero ha detto anche che 9.061 persone sono state uccise all'inizio della guerra con l'attacco di amas a israele il 7 ottobre e di questi 3.760 erano bambini inoltre sarebbero 32.000 le persone rimaste ferite passiamo al caso della hostess ilaria de rosa arrestata per possesso di hashish in arabia saudita la giovane assistente di volo trevigiana che era stata arrestata in arabia saudita nel maggio scorso è stata espulsa e imbarcata sul volo jedda roma delle saudia airlines con arrivo a roma alle 13 40 locali lo rifinisce il senatore veneto per antonio zanettin parliamo ora di plutone anche il pianeta nano potrebbe nascondere un oceano di acqua liquida sotto la sua superficie a suggerirlo è la scoperta di lava ghiacciata e ruttata da un super vulcano pochi milioni di anni fa un tempo abbastanza recente in termini cosmici questo indicherebbe perciò che il pianeta nano nonostante le sue dimensioni conserva al suo interno più calore di quanto si pensasse per alimentare l'attività vulcanica e mantenere allo stato liquido l'acqua presente nel sottosuolo il cratere chilazze largo circa 44 chilometri potrebbe essere dunque un super vulcano che a differenza di quelli terrestri che ruttano rocce fuse e rutta lava ghiacciata in un fenomeno noto come trio vulcanismo che si può vedere all'opera anche su alcune lunedì giganti gassosi come giove e saturno quale possa essere la fonte di calore che alimenta questo fenomeno resta però ancora un mistero secondo i ricercatori una possibilità potrebbe essere la presenza di elementi radioattivi nel nucleo di plutone anche se la loro quantità non dovrebbe essere sufficiente a mantenere attivo un super vulcano chiudiamo con il tennis perché jannick sinner si ritira da parigi bersi crescono così le polemiche sulla folle programmazione del masters di parigi come già sottolineato da molti giocatori e dal pubblico dell'ultimo masters mille stagionale gli organizzatori del torneo hanno gestito nel peggiore dei modi la programmazione sinner infatti ha avuto poche ore per recuperare e presentarsi agli ottavi di finale in cui avrebbe incontrato l'amico dei minu ha quindi deciso di dare forfe l'azzurro tornerà quindi in campo direttamente alla etp finals di torino queste erano le notizie di oggi noi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con flash news sarà domani sempre alle 19 e sempre sui canali social di per sempre news buona serata ciao